grande generazione non stop niente ascoltate mi sembra chiara rovioni un bacio ciao sono Federico Mandetta Volante faccio un saluto alla generazione non stop il meglio un saluto per generazione non stop ciao ciao Paoletta saluto tutti i telespettatori di generazione non stop vi mando un abbraccio a tutti voi che state guardando generazione non stop da che fa pagetta ciao a tutti un grandissimo bacio la parte mia e soprattutto la parte di M2O a tutta generazione non stop generazione non stop ciao a tutti ragazzi a presto un saluto da prezioso a generazione non stop ciao